La tua prima volta a Giro del Trentino, la tua prima volta sulle montagne di Trentino. Quali sono i tuoi sentimenti? Sì, sono venuto per la prima volta per la Tour del Trentino. Ho venuto per la Tour del Trentino per il primo anno per il professionale per me. E per i grandi raccogliere con la Tour del Trentino. E' una buona esperienza per me per il futuro. E' ok, non troppo. E' una buona cosa sulle montagne. La tua squadra era in attacca. Quali sono i plani per i prossimi stagioni? Per i prossimi stagioni non so. Non so, non so. Perché i prossimi stagioni parlano in maniera prima prima della Tour del Trentino. Non so, non so. Non so, non so. Non so, non so. Non so, non so. Non so. Ma per i prossimi stagioni per il Piero Ron. E' un buon rinco per la montagne. Non so. Non so. Non so. Per i prossimi stagioni per il primo tempo. Per i prossimi stagioni per il prossimo sto. Grazie a tutti.